in questo convento c'è questo ragazzo di vent'anni un seminarista che sta facendo un corso di vent'aprende una sera mentre si sta facendo la doccia tutt'annù si accorge da che la doccia ci mancano i saponetti inconsciamente fa senza malizia esce tutt'annù va in da doccia per andare a dubbio va andare a dubbio e trova questi due saponetti per tornare in da doccia la facciamo facendo prima passa per dire con delle belle buone due solo WII è un distributore di saponetti io sto con la loro comune è che era la seconda sabore ma adesso, non ci provo pure tocca a uova Lorenzo ciò che tu mi aspetta, ma ho regalo a me maravano sabono lì